L'equipaggiamento, gli armamenti ed i sistemi di sorveglianza mostrati in questo film sono veri ed in uso negli Stati Uniti tutt'oggi. Sutherland! Ries! Maloney! Murphy! Ma dove di all'andare? Ma ci stenti! Ma tu guarda! Ehi, Giafo! Trovami Murphy! Sì, signore! Signore, la vuole il tenente Cress. Scusi, signore? Perso qualcosa? No, no, il tenente la vuole. Le spiace se le domando cosa fa? No, non mi dispiace affatto. Allora, ti senti sotto pressione? Sì, di un'atmosfera al centimetro quadrato al livello del mare. Dov'è Montoya? Non li leggi, gli ordini del giorno, è in ferie. Ah, me l'ho scordato. Ti ho assegnato quello nuovo, quel... Leimangut. E qual è? Io. Leimangut. Che fregatura. Capitano Maloni, agente Riss, subito in sala operazione. Io non lo farei più volare. Si ristabilirà. Io non volerei più con lui neanche se mi dessero una vacca che piscia whisky. Non mi dire. Io non lo farei più con lui.